La Viterbese, dopo aver visto sfumare Daniele Offredi, ha ufficializzato l'arrivo di Vladan Dejkic, portiere serbo classe 1999 proveniente dal Pisa. Difenderà i pari della porta in questa seconda parte di stagione. La Gelbison, prossimo avversario dell'Avellino, ha annunciato l'arrivo di Nicolò Francofonte, centrocampista, nativo di Palermo, classe 2001. Arriva dal Gubbio dove ha totalizzato 12 presenze. Il Giuliano ha messo nel milino Lorenzo Sorrentino, centravanti Romano, in campo 13 volte nella prima metà di stagione, frenato dall'infortunio che lo ha costretto ai box nella prima sosta. I gialloblu hanno messo nel milino anche Federico Mastropietro, che ha già pronte le valigie per lasciare la Virtus Francavilla. Il Taranto si rinforza con Simone Rossetti, attaccante e cassa del 1997. Nelle ultime due stagioni ha meditato nelle fide renate, società che ne detiene il cartellino dalla quale il calciatore arriva in presto. Il Latina pensa al ritorno di Emanuele Ercolano per rinforzare la fascia destra. I nerazzurri vorrebbero riprendere il giocatore dalla Turris, dove gioca attualmente impresso dalla Sampdoria. Ercolano ha già vestito la maglia dei pontini nella passata stagione, realizzando anche tre reti alle dipendenze di Mr. Daniele Di Donato.